Le diamo il benvenuto nella Casa dell'Inquisizione, conosciuta anche come Casa de los Fucares. Costruita alla fine del XV secolo da una piccola congregazione di frati dominicani, si ritiene che sia stata utilizzata anche dall'Inquisizione, e che in seguito sia stata utilizzata come alogio per la famiglia dei banquieri tedeschi Fugger durante il periodo di affitto della miniera dal 1521 al 1646. Questi ottennero la miniera di Almaden e il maestratgo dell'ordine militare di Calatrava come garanzia per gli anticipi monetari che Carlos I ricevette per finanziare la sua elezione imperiale quando la corona del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica divenne vacante dopo la morte di Massimiliano I, notizia di cui venne a conoscenza il 6 luglio 1520. La facciata dell'edificio ha un interessante portal in pietra, con un pronunciato architrave sul cornicione. A fianco dello stema centrali si trova una spada e una palma, che rappresentano il potere politico e religioso. Da entrambi lati, due cani con le torce si riferiscono all'ordine dei monaci dominicani, dominis canis. Actualmente, dopo un accurato restauro, è diventato un piccolo albergo molto affascinante. Adesso la facciamo questo posto, ma può continuare a conoscere altre storie di Almadene, postandosi al prossimo punto di interesse.